Essere imprenditori oggi è una sfida importante, bisogna essere curiosi, bisogna essere preparati, bisogna essere capaci anche di lasciare agli altri, a chi ci ha preceduto, più di quanto abbiamo ricevuto. Siccome noi abbiamo ricevuto tantissimo, è un'impresa veramente complicata, ma di cui siamo orgogliosi. Gli ingredienti del successo di Epta sono naturalmente le sue persone. Ma anche la curiosità che queste persone hanno, ed anche la preparazione. Io dico sempre che per prendere il treno bisogna essere in stazione. Questo premio mi riempie d'orgoglio, non credo di meritarlo in verità. Lo meritano tutti quelli che hanno lavorato insieme a noi per fare di questo gruppo quello che è. L'immagine è il simbolo di una capacità del territorio, di una capacità delle persone e di una voglia di fare che caratterizza l'Italia. Tra dieci anni noi vogliamo diventare più grandi, più presenti nel mondo, ma anche capaci di portare soluzioni innovative, di essere di riferimento, di essere sostenibili e anche di contribuire al territorio e all'evoluzione delle persone che ci sono. In una famiglia imprenditoriale è giusto ed è corretto che ognuno scelga il proprio ruolo e cerchi di farlo al meglio. E questo è il mio auspicio per i miei figli e per i miei nipoti. E questo è il mio auspicio.